Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Franke che vi parla dal Centro Missionario Internazionale di Krefeld, Germania. Siamo così riconoscenti al Dio Onipotente per le riunioni dello scorso fine settimana. Le persone sono venute di nuovo da tutta l'Europa, guidando per più di 1500 chilometri per essere con noi, per ricevere la parola di Dio ed essere preparati per il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Se guardiamo a quello che Dio sta facendo adesso in tutto il mondo, non c'è mai stato sulla terra come accade adesso. Anche la trasmissione delle predicazioni. Le persone in 172 Paesi possono unirsi a noi online ed ascoltare la predicazione ed essere preparati per la venuta del nostro caro Signore e Salvatore. noi crediamo con tutto il nostro cuore che il ritorno del nostro caro Signore e Salvatore è molto molto vicino. E crediamo che la promessa che il nostro Signore ha fatto in Giovanni capitolo quattordici sarà presto adempiuta. La promessa è conosciuta a noi tutti. Il nostro Signore ha detto io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Allo stesso tempo noi riconosciamo quello che Dio ha fatto nel nostro tempo adempiendo Malachia capitolo 4 versetti 5 e 6. Il Signore ha promesso di inviare un profeta come Elia prima che venga il giorno del Signore. E cari, io reputo questo un privilegio molto speciale di aver conosciuto personalmente il fratello Branham per dieci anni. E giusto alcune settimane fa, il 15 agosto, sono passati 61 anni da quando ho stretto la mano del fratello Branham per la prima volta. Cari, Dio stabilisce i ministeri, Lui dà le chiamate, Lui è responsabile del suo proprio piano di salvezza. E come dice la scrittura in Efesini capitolo 4 dal versetto 11, Dio ha collocato nella chiesa. Non un uomo, non un vescovo, non un profeta. Dio ha collocato nella sua chiesa tutti i differenti ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. E cari, noi sappiamo che il fratello Branham aveva una chiamata speciale. Nessuno sulla terra ha mai avuto un simile ministero. In realtà era una ripetizione del ministero che ha avuto il nostro Signore e Salvatore quando ha camminato come figliolo dell'uomo nel suo ministero profetico. Lui poteva dire a Pietro chi egli fosse e così a Natanaele, a Filippo. Egli poteva dire alla donna al pozzo chi lei fosse e quello che aveva fatto. Questo ministero io l'ho visto con i miei propri occhi molte volte in Germania ed anche negli Stati Uniti. Cari, io sono un testimone oculare di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. E dopo il ministero del fratello Branham, al quale fu detto di immagazzinare il cibo, ed a proposito, lui disse che solamente a Jeffersonville poteva insegnare le dottrine. Così egli disse il deposito è proprio qui a Jeffersonville, non a Phoenix, non a Tucson, non qua e là, ma nella sua propria chiesa dove egli poteva aprire il suo cuore e condividere i misteri di Dio. Cari, lo stesso uomo di Dio al quale fu detto di immagazzinare il cibo dall'angelo del Signore stesso. Lo stesso Signore Dio, addetto al fratello Frank, immagazzina il cibo. E lo stesso William Branham, il servitore e profeta di Dio, il 3 dicembre 1962, alla presenza di Fred Sotman e Banks Wood, addetto, fratello Frank, il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo giorno ed è contenuta nei messaggi che vengono registrati sul nastro. E poi egli mi ha consigliato di ricevere tutti i sermoni, ogni sermone che lui predicava. Ed egli mi indirizzò a Leo Mercier, che avrebbe dovuto darmi alcuni sermoni. Ed egli mi diede cinque sermoni ed io li presi con me. E quello è avvenuto ovviamente nel giugno 1958 e l'altra esperienza nel dicembre 1962. Io ho giusto menzionato queste cose in modo che sappiate che il fratello Frank non ha fatto qualcosa da sé. Io sono stato chiamato direttamente al ministero come lo sono stati gli apostoli, come lo è stato il fratello Branham. Così io sono stato chiamato dalla voce diretta ed udibile del Signore il 2 aprile 1962. E William Branham, il profeta di Dio, ha ripetuto ogni parola che il Signore che il Signore mi ha detto quel 2 aprile. Cari, io non sono un narratore di storie, vi sto dicendo la verità. E perciò voglio che comprendiate che io non posso essere d'accordo con nessuna aggiunzione alla parola di Dio, né con alcuna interpretazione. In merito ai tuoni, in merito al terzo pull, in merito, in merito, in merito. No, non posso. Io devo vederlo nella parola di Dio. William Branham non è stato inviato per iniziare una nuova religione, non è stato inviato per allontanarci dalla parola. Lui non è stato inviato per dare la sua propria interpretazione. William Branham era un uomo inviato da Dio con la parola di Dio, con il messaggio dell'ora, per riportarci alla parola originale di Dio, non per aggiungere o portarci via da essa. E dunque, naturalmente, avendo una chiamata speciale e una responsabilità con il suo ministero diretto, noi dobbiamo prestare attenzione a tutto ciò che egli ha detto. E in secondo luogo, non solamente una dichiarazione, ma la successiva e la successiva e la successiva. E poi, questo non è sufficiente. Voi dovete riportare nella parola di Dio tutte le dichiarazioni che lui ha fatto e qui è. Cari fratelli e sorelle, sono addolorato nel mio spirito a causa di tutte le differenti interpretazioni di tutti i fratelli. Loro si riferiscono al profeta. Uno va in questa direzione, l'altro in questa, l'altro in quella direzione. Ci sono più di nove direzioni ed ognuno dice il profeta ha detto, il profeta ha detto, fermatevi, fermatevi, ritornate alla parola di Dio e non fate del profeta come uno scudo di fronte a voi per ricevere l'attenzione delle persone. Questo è il grande problema. Coloro che non hanno una chiamata al ministero dicono il profeta ha detto, il profeta ha detto, nascondendo, nascondendo le loro proprie interpretazioni dietro al profeta. Cari fratelli, quello non è corretto. Lo ripeto, non c'è nessuna persona in vita sulla terra che ha amato William Branham più di quanto faccia io. Io ricordo i periodi che ho passato con lui, sia mangiando alla stessa tavola, viaggiando nella stessa macchina, partecipando alle sue riunioni in Germania e negli Stati Uniti, a casa sua ho preso il tè, ho predicato al tabernacolo il 2 dicembre 1962, predicando nella riunione del mattino e nella riunione della sera. Cari, ma quello che io non posso sopportare sono tutti gli insegnamenti sbagliati e poi il riferimento che viene fatto a William Branham. Questo non lo posso sopportare. William Branham era un uomo inviato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per riportarci alla parola originale di Dio, alla Bibbia, alla dottrina degli apostoli. E se noi rispettiamo la parola di Dio, riporteremo nella scrittura tutto ciò che Egli ha detto e soltanto allora noi tutti parleremo la stessa lingua. Saremo riportati al fondamento originale, agli insegnamenti originali, alle benedizioni originali del Dio Onnipotente. Siate sinceri, fratelli e sorelle. A cosa vi serve spiritualmente se qualcuno dice il profeta ha detto, il profeta ha detto? Voi avete bisogno di una vera comunione con Gesù Cristo. Noi non siamo stati riportati al profeta. Noi siamo stati riportati a Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Poiché voi tutti sapete che gli scribbi in Giovanni capitolo 8 leggevano e leggevano, investigavano e investigavano le scritture. Ed il nostro Signore ha detto, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ma a me, a me non volete venire. Questo è il grande problema. Voi potete investigare le scritture, potete investigare i sermoni del fratello Branham, ma ciò non vi giova a meno che ritorniate a Gesù Cristo e abbiate una relazione personale con Lui, dopo aver ricevuto il perdono dei peccati, la giustificazione tramite il sangue sparso sulla croce del Calvario, rinnovati e nati di nuovo per mezzo dello Spirito Santo, avendo la vera vita di Dio, la vita eterna ed anche il vero amore di Dio. I miei occhi guardano in Primo Corinzi, capitolo 13. Se noi conoscessimo tutti i misteri, se avessimo la fede per trasportare le montagne, se avessimo e avessimo, ma se non abbiamo l'amore di Dio, l'amore per la verità e il nostro Signore ha detto, la mia parola è la verità, santificali nella verità. Cari, nessuno vedrà Dio senza la santificazione. non la vostra propria giustificazione, non la vostra propria santificazione, ma giustificati per fede nell'opera compiuta sulla croce del Calvario. ed io faccio questa domanda. Chi nel cosiddetto messaggio sta predicando il pieno Vangelo? Chi sta predicando il avvenimento? Chi sta predicando le dottrine fondamentali della Bibbia? Ognuno dice, il profeta ha detto, il profeta ha detto, mio Dio, io voglio sapere quello che Dio ha detto. Ed il nostro Signore per primo ha detto, voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Dunque cari, non si tratta soltanto di parlare del profeta e parlare del messaggio. Conoscete Gesù Cristo? Lo conoscete nella potenza della sua resurrezione? Camminate con Lui? Parlate con Lui? Cari, solamente coloro che sono pronti saranno nella cena delle nozze dell'agnello. e questo è il tempo della chiamata fuori, questo è il tempo della preparazione, questo è il tempo della separazione da ogni incredulità, da tutto ciò che non è in accordo con la parola di Dio. Lascete che riassumiamo quello che dobbiamo dire oggi. Il nostro Signore Salvatore è pronto a venire. Se apriamo i nostri occhi, le cose non sono mai state sulla terra come sono adesso. Dove è la famiglia? Dove è il matrimonio? Dove sono le cose come sono state? Oggi è soltanto una totale Sodoma e Gomorra, una confusione totale. Ma il Signore ci riporta al modello della Bibbia. E cari, è assolutamente necessario essere trovati nella parola di Dio e nella volontà di Dio. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Il nostro Signore ha detto, quelli che fanno la volontà di Dio. Loro sono i miei fratelli, loro sono le mie sorelle. Cari, permettetemi di dire questo con amore. Noi vediamo i segni del tempo della fine e il nostro Signore ha detto, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. che il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, possa il nostro Dio, l'unico vero Dio che esiste, fare qualcosa di straordinario nel futuro immediato. Ed assoluto fra tutti coloro che affermano di credere il messaggio. Che in ogni città possiamo radunarci insieme cercando il Signore in preghiera fino a che l'effusione dello Spirito Santo e la restaurazione totale possa accadere. Non abbiate più le vostre proprie vie. Ritornate al Signore e siate benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente. Nel nome santo di Gesù. Amen.